Allora, buonasera a tutti, io sono Jacopo Arnò, in arte Blocks 132, e adesso vi suonerò la mia prima canzone che ho pubblicata anche su YouTube, che si chiama Insogna. Insogna, dove ho come un attacco di panna, ti fai una via ad uscita, vivi una vita alternativa, dormo appoggiato sopra un mare, ci guardavo una notte spenta, ci ha neanche un altro, una notte spenta, davanti a una morte lenta. Mentre mamma mi consola, sto sperando che quella stupida la c'era finisca in giro, mi interpenso, devo sbattere di pensare, quella vuole a vivere, per farti imparare la storia. Mentre mamma mi consola, sto sperando che quella stupida la c'era finisca in giro, mi interpenso, devo sbattere di pensare, però ho una ragione che non so trovare. Mentre mamma mi consola, sto sperando che quella stupida la c'era finisca in giro, mi interpenso, devo sbattere di pensare, per farti imparare. Mentre mamma mi consola, sto sperando che quella stupida la c'era finisca in giro, mi interpenso, devo sbattere di pensare, per farti imparare. Mentre mamma mi consola, sto sperando che quella stupida la c'era finisca in giro, mi interpenso, devo sbattere di pensare, per farti imparare. Ma la gente non se ne va, non è solito, non è solito, non è solito non è solito, 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 non è sol No, 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 no. No, 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 no.